Il diffusore si piega verso l'interno e contiene e nasconde al tempo stesso la fonte luminosa. Lei che raccoglie la luce e la diffonde. La sottile striscia led sparisce all'interno di questo bordo e crea una sorta di luce liquida, come se scorresse in superficie. È una luce che stupisce anche per la sua posizione. Non si diffonde dal centro, come accade solitamente nelle lampade da parete, ma dal bordo esterno si diffonde verso l'interno. Quando Lake è accesa, i suoi colori diventano brillanti. La sua luce assume una cromia calda, colorata. Questi colori dialogano tra loro. In composizione danno luce, colore, movimento, anche a pareti molto grandi. Lake Luce 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 Grazie a tutti.